Fisca pronta, carità intera, va Balossi, una contro tutti, è sfortunato, è rimasto per la panza, 14 secondi da giocare. Buonadio da Veltami, Veltami va a pescare Pellegrini in 8 secondi, è ora di muoversi, 30 secondi, buonadio va a stand back. Buonadio da Veltami, ci vanno a mangiare per la felicità di tutti i campani.